No, uso il tab... non ho la linea fissa, uso il cellulare. Sì, bene, ma un tablet non ce l'ha? No, ho un cellulare. Ok, allora, quando possiamo avere la connessione internet per poter fargli vedere anche il sito? Beh, se lei mi dà l'indirizzo vado a vederlo più tardi. Ma dove vai a vedere quando mi stai dicendo che non hai internet? No, oggi vado a caricare il telefonino e la connessione dati, poi guardo, se mi dai l'indirizzo vado a guardare. Sì, allora, l'indirizzo è bfx.com, però io preferirei che nel momento quando io l'ho ricontato di nuovo gli faccio vedere il sito così anche gli spiegherò qualcosa davanti il sito per poter capire meglio di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando. Va bene, ok. Allora, quando ci possiamo risentire così hai la connessione internet e gli faccio vedere anche il sito. Dimmi lei quando ci possiamo risentire di nuovo. Sempre di pomeriggio mi può chiamare, pomeriggio, no di mattino perché... Sì? Io lavoro in caserma il mattino, sono un poliziotto. Ok, non c'è nessun problema. Dimmi verso quale ora nel pomeriggio così la ricontato di nuovo. Questa ora qua va bene. Ok, verso l'una? Verso l'una e mezza? Sì? Bene, ci possiamo risentire...